Il gruppo greco, i lavoratori si incontrano e parlano appunto delle loro problematiche. Le problematiche sono che non riscuotano da mesi e nonostante la loro presenza e professionalità nel lavoro si ritrovano oggi in questa situazione. Noi cerchiamo di raccogliere questo grido perché il lavoro oggi è una preoccupazione non solo per chi non ce l'ha, ma come vediamo anche per chi ce l'ha perché non riscuota. Allora, quando si tagliano le spese, quando una società purtroppo va male perché esistono società che oggi non vanno bene, i primi a risentirne sono appunto i lavoratori. Noi crediamo che con l'incontro di stasera abbiamo fissato un punto fondamentale, che è quello di ascoltare i cittadini, di ascoltare i lavoratori, di ascoltare quella parte minoritaria, ma non più oggi, importante, per dare un segnale che a San Giuliano Terme e il Movimento 5 Stelle fa qualcosa di sensato e di concreto. Oggi, adesso e domani. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.